Let's go bitches, sono tornato dal Codework Championship e per chi di voi l'ha seguito ho visto che il team sublime non è andato tanto bene sapete già le motivazioni perché non è andato bene, non c'è bisogno di spiegarlo sapete anche il perché sono uscito dal team sublime e tutti i problemi che ci sono all'interno quindi penso anzi sia forse meglio così che sono uscito che rimanere dentro in un ambiente del genere comunque cosa vi voglio parlare, non so cosa farò, non so se ora mi concentrerò su Call of Duty, se giocherò con un nuovo team non ho ancora le idee ben chiare su cosa voglio fare per quanto riguarda Youtube ci saranno degli sviluppi entro due settimane penso, molto importanti quindi vi consiglio di stare sintonizzati, come vedete sono abbastanza vago su queste cose perché non so come dire, sono cose abbastanza grandi quindi dovete un secondo aspettare perché ci sarà veramente qualcosa di grande quindi sì, grande, tutto si riduce a grande non c'è un altro modo per dirlo quindi spero magari di riuscire ora mi concentrerò un po' di più su Youtube e sulla mia figura mi sto prendendo qualche giorno per iniziare comunque a metabolizzare le serie che sto facendo come quella di vincere le 100 partite di Lega sto organizzando nuove serie che riguardano sia pubblica sia partite comunque competitive di COD e vedrò con l'uscita ora delle playlist stile Lega alla Halo più che alto di Titanfall di magari giocare anche a quello perché potrebbe magari essere uno dei nuovi giochi rivelazione per quello che è il competitive e le sports in generale per console quindi quello che vi voglio dire il mio canale si incentrerà molto di più ora sugli FPS Dark Soul non farà più parte dei miei video perché ho visto che non ha un grande riscontro dalla community quindi allo stesso modo non tratterò i giochi di cui avevo parlato come Elder Scrolls ma mi occuperò di FPS quindi giochi dove richiede alta skill, teamwork e così via sempre per console vedrò magari se introdurre qualcosa per PC però per il resto per i progetti solamente saranno Call of Duty e forse Titanfall ora con l'uscita delle private quindi ragazzi non ho fatto un recap del COD World Championship perché ho scritto già tutto sulla mia pagina di Facebook quelle cose che sono successe i motivi delle sconfitte le gioie se si può dire così ma anche se questa l'anno è stata mai una gioia si può dire quindi vi saluto bitches spero che il video vi sia piaciuto vi invito anche a mettere un like in modo che ora che dato che è diventato importantissimo mettere un like magari il studio va nelle feed e più gente lo possa vedere e quindi capire un po' quello che sta succedendo nel mio canale vi saluto bitches al prossimo video vi saluto grazie a tutti